Ciao da Fabio De Santis oggi siamo qui per una nuova intervista ho il piacere di avere con me la collega amica psicologa Michela Colarieti responsabile del GAP che sta con macronimo di cura del gioco d'azzardo patologico Ciao Michela, grazie per avermi concesso a questa intervista Ciao Fabio, buonasera a te e a tutti i tuoi spettatori del canale Vivi Meglio con la Psicologia Grazie Michela Michela, potresti spiegarci meglio le finalità del GAP? Allora, guarda, questo è un centro che nasce proprio come dicevi tu per la cura del gioco d'azzardo patologico diciamo noi siamo su Roma ormai da diversi anni all'incirca da gennaio 2012 ci troviamo proprio su tutto il territorio in particolare del secondo municipio però ovviamente come tu sai diciamo le richieste ci vengono anche da tutta Roma a volte anche i castelli insomma anche nelle zone limitrofe e appunto noi trattiamo tutte le dipendenze in particolare però le dipendenze comportamentali quindi come dicevamo le nuove dipendenze tra cui il gioco d'azzardo patologico Che persone collaborano all'interno del GAP? Allora, guarda, fondamentalmente diciamo un'equip di colleghi in particolare io mi occupo fondamentalmente del primo colloquio così seleziono diciamo l'utenza mi rendo conto un pochino della gravità della situazione e poi mi regolo a seconda quindi di quello che c'è se posso li seguo personalmente oppure li invio ad altri colleghi ma siamo pochi in realtà in questo momento non siamo tantissimi perché bene o male preferisco avere una cerchia un pochino ristretta appunto con colleghi formati ad hoc e in particolare c'è anche una psichiatra che segue quindi tutta l'area farmacologica come tu ben sai non esiste un farmaco per il gioco d'azzardo però magari lei si occupa che ne so di tutta l'area dei disturbi dell'umore ansia quindi tutte le cose correlate la compulsività insomma tutta l'area che può essere limitrofa al gioco d'azzardo quindi non il farmaco specifico per il gioco però comunque magari uno stabilizzatore dell'umore insomma tutto quello che c'è intorno quindi Michela potremmo dire che all'interno del GAP si lavora in equip sì sicuramente sì diciamo come ti dicevo appunto sono dei colleghi formati da me dove appunto ho messo in atto un protocollo nel corso di questi anni un protocollo specifico molto ben strutturato quindi ogni incontro diciamo affronta un tema differente e appunto diciamo abbiamo un equip all'interno del centro sicuramente sì la domanda di richiesta di aiuto che ricevete quotidianamente quante sono? allora guarda più che quotidianamente diciamo ti farei una stima magari all'incirca nell'anno fai conto che comunque noi seguiamo dalle 20 persone all'anno all'incirca diciamo può essere quella la richiesta perché fondamentalmente le richieste sono di più di una ventina però magari le persone chiedono sono un po' titubanti perché purtroppo come tu sai il problema del gioco è veramente difficile cioè non è come un disturbo d'ansia che adesso è veramente conosciuto quindi le persone tendono a chiedere il trattamento molto più semplicemente il gioco invece purtroppo c'è ancora un tabù insomma è un po' difficile anche da accettare e quindi magari le persone chiedono le informazioni però poi forse non riescono a avvenire effettivamente quale resistenza mette in atto il paziente che soffre di gioco d'azzardo patologico ecco infatti proprio quello che ti stavo dicendo prima fondamentalmente loro un pochino si vergognano quindi la vergogna è la prima cosa secondo in realtà sembra un paradosso ma ne fanno un problema economico cioè loro si giocano magari 600 euro in un giorno e poi il discorso della terapia diciamo sono un po' resistenti quindi lì a meno che non c'è tanta motivazione e anche magari da parte delle famiglie un aiuto quello diciamo potrebbe essere un qualcosa che li blocca e poi ovviamente la prima cosa che posso dirti è proprio riconoscere di avere un problema fondamentalmente è quello Quali sono i comportamenti classici che mette in atto un giocatore d'azzardo nella vita di tutti i giorni? Purtroppo comportamenti molto brutti quindi ad esempio bugie ovviamente questo parliamo di giocatore patologico bugie, soldi che comunque spariscono a volte si vendono anche l'oro di famiglia ci sono tantissime storie di questo genere e ovviamente tutto questo poi porta a una rottura anche familiare quindi le coppie si scoppiano le famiglie comunque si deteriorano tutto ciò che riguarda anche i rapporti umani purtroppo viene meno quindi c'è proprio tutto un clima di negatività intorno al giocatore patologico Senti e le richieste di informazioni o di trattamento vengono da familiari delle persone che soffrono il gioco d'azzardo patologico? Assolutamente sì Sì, diciamo che se devo darti una percentuale fai conto il 60% saranno le famiglie mentre il restante 40% saranno le persone stesse quindi magari può essere una moglie, una figlia una compagna, una madre molto spesso sono anche le mamme da una parte è anche una cosa buona perché effettivamente purtroppo come dicevamo il giocatore non si rende conto di avere un problema quindi per fortuna che gli sta intorno comunque vede che invece un problema reale ci sta e quindi riescono comunque a chiamare Qual è l'approccio psicoterapeutico per il giocatore d'azzardo? Allora guarda più che psicoterapeutico io dico sempre anche le persone che mi chiamano è più psicoeducativo perché effettivamente anche qui bisogna capire che la persona che sente psicoterapia un pochino si spaventa sempre rispetto al gioco allora magari io gli spiego ok non è una psicoterapia è più una rieducazione funzionale al gioco quindi dobbiamo imparare perché questo gioco ci fa male quali sono quindi tutti i lati negativi e poi cercare di distaccarci quindi dal gioco quindi è più una conoscenza delle cose negative che il gioco ci può portare Senti, del distacco è preferibile che avvenga gradualmente o immediatamente? Immediatamente, purtroppo sì come poi questa è una mia opinione personale però come tutte le dipendenze cioè non si può dire va bene smetto a pezzi cioè non possiamo dire ad esempio anche con le sigarette smetto di fumare ne fumo di meno no, purtroppo no cioè bisogna interrompere e basta Quanto dura mediamente un intervento di cura all'interno del GAP con un paziente che soffre di gambling? Guarda, all'incirca io do come tempo 12 mesi però 12 mesi devono essere senza gioco io glielo spiego sempre alle persone che vengono gli dico guardate voi venite qua dovete prendervi un impegno che deve essere sia economico che di tempo e deve durare un certo periodo quindi almeno un anno però di assinenza continuativa Bene, grazie Michela per la tua disponibilità Grazie a te Fabio, un saluto